Un mio amico ha ritrovato le sue carte Pokémon di quando era bambino e nella prima parte abbiamo scoperto qualcosa di assurdo ma nella seconda parte abbiamo trovato delle carte davvero molto interessanti Questa potrebbe quasi salvarci perché non ti piaceva quella lì, allora non ce l'hai scritto Adesso ti dico cosa vale quella lì Oh! Oh! C'è Max? No, c'è scritto Max Piango, questa te la compro io No, ma questa qui è quella che ti faccio vedere ed è prima edizione C'è scritto Max? Se c'è scritto Max ti do un pugno, eh Ti do un pugno C'è un progetto! Ce ne sono due però guarda Sì, ma questo è brillante E questo è prima Ti guardo io No, 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 ti prego Ho piano che le rovini Un po' la posso tirarla fuori io che non è giusta Mi viene male di dire da cuore Se ride tanto Se ride poco non c'è scritto Allora, non è messa bene Ma non c'è scritto Max Ma te hai ancora fatto Sì, 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 perché è figa voglio ricordarmelo questa Ha scritto Max in tutte le carte dietro Ma tutte no Quelle che costano dei soldi in tutte Non ti interessa Dark Rage? Che non ti ha scritto Max? Quelle con premedizione costano da porco Sì? Sì, quando hai scritto premedizione costano da matti Quella? È in inglese Perché io le cerco in italiano queste qua Ah Questa premedizione è peccato che ci sia la... Che ci sia Max? No, cioè, è piegata Non c'è scritto Max Forse non era tua L'ho fatta Perché c'è Trunks su Nergio qua? E non c'è scritto Max Perché a te piacciono così tanto? Eh no, perché sto facendo questa edizione qua No, lui è anche brillantino Solo che, tutte e due Solo che questa è prima edizione, vale di più Prima edizione Fossil Bello Se non c'è scritto Max Questo potrebbe valere Se lo diciamo noi Max Tutte lì le ha scritte, eh Sempre sulla Pokéball Eh, che è la parte... Bianca c'è Ci sta Ci sta perché hai perso un botto di soldi Scrivendoci Max Che gioia Il mio antico Ma sono trano Vediamo se c'è scritto Max Sicuramente No Però non è prima edizione, peccato E quindi? Dopo ti dico cosa vale Dopo facciamo il conto, se vuoi Prima edizione Brillante Se c'è scritto Max c'è da piangere Sicuramente è scritto Max Non c'è scritto Max Eh, però... Vedi, è rovinato Vale un po' meno, ma vale Per valere vale Peccato Perché? Però qualcosina Possiamo salvarlo Qualcosina Adesso guardiamo i prezzi E se ti interessano contenuti come questo Seguimi su YouTube TikTok e Instagram Grazie a tutti